scorsa qui in vostra compagnia, io vorrei sentire un bel applauso per il mio amico Adriano e tutto lo staff delle Acace che ci hanno ospitato oggi, grazie a tutti voi che fino alla fine siete rimasti in nostra compagnia, insomma poi a tutti gli amici che sono arrivati un po' anche da lontano da tutte le parti, allora per il gran finale venite tutti qua vicino a me, dai tutti qua vicino, no ce l'ho, non ce l'ho, allora, allora vorrei sentire un applauso per i miei ragazzi, partendo da batteria a Tiglio, al basso Riccardo, alla chitarra a Gerry, pianoforte Andrea, la fisarmonica Luca, la voce della nostra Angelica, la voce del nostro Viero Gattari, grazie a tutti voi amici della Terra, meravigliosi, se avete regalato una giornata fantastica, grazie dei vostri applausi, dei vostri sorrisi, vi ricordo che qui non abbiamo ancora preso i programmi, vi trovate qui e troverete anche la nostra discografia, adesso sono qui a vostra disposizione per i cd e chi avete, come già li avete richiesti. Allora ci salutiamo così, alziamo i mani al cielo tutti quanti e ci salutiamo, ciao bella gente, alla prossima, grazie, le mani su, me lo fate sentire l'urdo, di più, insieme, io non mi arrenderò, un po' d'amore avrò, in questa notte tu non mi dirai di no, mi arrenderò, in questa notte tu non mi dirai di no, Grazie a tutti amici! Grazie a tutti amici! Grazie a tutti amici! Grazie a tutti amici! Giulio! Di più! Di più! Grazie! Buongiorno a tutti e viva sempre le donne!